Dopo tre anni di purgatorio, il Piacenza Rugby si riaffaccia in Serie A e domani allo stadio Beltrametti sarà il Cus Genova il primo avversario di una stagione che vedrà i Biancorossi lottare per centrare la salvezza. Il 15 di Pagani, dopo la trionfale cavalcata chiusa nell'apoteosi della finale play-off con Paese, torna in campo profondamente rinnovato. Il presidente Daniele Margarita, come ovvio, non sta nella pelle in vista della prima assoluta. Non vedevo l'ora di arrivare a giocare perché dopo tante parole, tante cose, bisogna poi al campo che dice la verità e come staranno le cose. Sicuramente c'è una forte emozione e una forte concentrazione perché vogliamo partire bene. Alle 15.30 Diego Antel, il nuovo mediano d'apertura Biancorosso, dovrà confermare quanto di buono mostrato nel corso dei test match di inizio stagione. Su di lui poggiano le principali speranze di salvezza. Per quanto riguarda l'argentino, ho trovato delle conferme, insomma qualcosa mi era arrivato da Brescia, l'altro anno aveva fatto un ottimo campionato, ma devo dire una cosa per me ancora più importante, è un'ottima persona. Io a queste cose ci tengo, devo dire che ho conosciuto un bel professionista. L'altro del nevo, sicuramente non lo scopro io, è una conferma, ormai da diversi anni gioca a un certo livello e anche su di lui posso dire che, ripeto, è la cosa che mi preme di più, sono delle brave persone. Sono contento anche da tutti, da come stanno preparandosi anche i nostri atleti. Devo dire che lo stanno facendo seriamente, come mi aspetto da una squadra di Serie A. Grazie a tutti.